Sì, stai chiamando, stai chiamando! Stai chiamando! Provengono a diverse persone che hanno veramente comunque un traguardo molto importante è quello di infermarsi al massimo idello nello specifico campo di lavoro. Inoltre abbiamo personalità che arrivano da tutto il mondo. Qui ci sono delle aziende all'interno delle quali ci sono persone che provengono dai paesi del mondo. Quindi questo serve anche per mettere ancora più internazionale la nostra immagine e anche per permettere a tutti noi di approfittare tra virgolette di questa di questi contatti in questo appoggio che ci vuole dire dalla collaborazione con gente, con persone e con professionalità che provengono da diversi paesi del mondo. E questo mi fa molto piacere e io vorrei fare un primo grande applauso a tutti i nostri amici e ai nostri ospiti che vengono dall'estate. io non voglio mi voglio portare a passare all'attività parlandovi di quello che ci circonda oggi perché penso che sia di tutti i commenti che non parlo, viviamo in un momento talmente difficile, talmente traumatico proprio per quanto riguarda l'economia in generale, per quanto riguarda quindi la situazione di chi deve operare in questo momento, che approfondire questo argomento penso che ci parebbe passato. Però io invece voglio parlare di quello che noi siamo in grado di fare per poter uscire da questa situazione in cui tutte le aziende, in cui tutte le attività sono precipitate ultimamente e qui ci sono le potenzialità per farlo. Qui ci sono le aziende, come dicevo prima, che sono accomunate da una filosofia di lavoro e di vita che sicuramente è il levere delle vicende, perché sono tutte le aziende che vanno contro corrette e che anche se ci sono delle cari difficoltà si impegnano per poterle superare e quindi per poter arrivare a dei risultati assolutamente eccezionali. Qui con noi questa sera c'è la Lodexpo, che è un'azienda importatrice e istitutrice di autodetto, lo dico per quelli nuovi che sono qui oggi, e che ha avuto in ordine alfabetico, con le nominale, e che ha avuto un anno estremamente duro, difficilissimo, peggio di così non poteva essere perché abbiamo avuto tutte le difficoltà possibili vaginali. Quando ho provato, lo dico, non soltanto così, fare una discussione di qualche cosa straordinaria che forse non cercherà di apprezzare, ma passare dalla fase della presentazione di autodetto, alla fase della produzione di autodetto, nel giro di un anno, credo che sia qualcosa di veramente straordinario. E qui quindi, come mai c'è tutti i presenti, facessero un applauso a questi ragazzi di un anno, di un anno, di un anno. Grazie. 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 e poi si sono scaglionati, perché vi vorrei parlare della pittoria che sta arrivando con l'inserimento del Dott. Caruso che si è dato un'attesa di lavatare perché ha rimasto senz'altro un campo un punto massimo di risposta. Grazie. Buongiorno, grazie. Quindi direi che proprio l'ingegner drawing vada da Dott. Mi hanno riuscito a comunicare la parte di un'ottima domanda che è un'ottima domanda di un'ottima domanda che è riuscito a fare queste strabubiliare drawing di Cresce che sono qualcosa di allucinante. Oggi il lavoro della formazione è un lavoro talmente delicato, corposo. Ognuno ha scordi che dovrei usare queste caratteristiche e direi che c'è un'ottima domanda che veramente per un'azienda come la nostra riuscivamo a pagare un altro. Questo è il caratteristico che è stato un lavoro utente. In cui vado avanti, ma tu per guarda, io ci metto a tutti i tempi, se che allora, perché magari potesse andare in quella maniera, cioè potesse essere la maglia di più, che potesse avere l'accelerazione più comunale, che potesse avere una frenatura più comunale, eccetera, eccetera. Ti voglio un applauso. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. strana perché non c'è nessuno che stiamo estendo non c'è nessuno che stia assommento personale una serie di assunzioni poi sono da settembre scorso da settembre scorso dall'ultima volta che ci siamo e güzel grazie 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. a un'altra parte più avanti. C'è un'altra parte più avanti. Ecco, ci siamo. A un gioco, abbiamo Ferrari e Franco, che è a tre. Frappini a tre a une. Frappini a un nuovo gioco. Grazie a tutti Grazie a tutti